Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Se volete supportarmi, questo è il mio codice creatore da inserire ogni due settimane nel shop di format e ora partiamo con il video. Video che è dedicato alla stagione 7, settimana 2, in carico leggendario 2 di 5, sali su uno scanner. Si trovano in tutte le basi sparse nella mappa, io ne ho scelta una e ho scelto questa qui. Scendiamo al volo vicino alle vecchie spiagge sudate, vicino al castello. Vediamo come completare velocemente questo incarico leggendario della settimana 2, stagione 7. Basta trovare uno scanner che dovrebbe essere dentro questa torre di guardia qui. Vediamo se ce lo dà al volo, se ho azzeccato. Eccolo qui. Saliamo per completare l'incarico. Abbiamo completato l'incarico in meno di un minuto. Se vi è giusto il video e volete supportarmi un like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.